buonasera ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it basta un sì pronunciato al telefono con l'operatore e la truffa è servita anche in provincia di varese molti consumatori sono alle prese con contratti per la fornitura di energia elettrica che però non hanno mai sottoscritto vediamo il servizio di fabio pellaco una telefonata e scatterra giro rispondere innocentemente sì mi dica alla chiamata di un call center potrebbe innescare la sottoscrizione di un nuovo contratto per un'utenza domestica quel sì viene estrapolato e inserito in una conversazione in cui il malcapitato aderisce a una proposta pensa qualcosa un utente varesino che si è trovato con un nuovo gestore dell'energia elettrica sono pratiche note anche a livello nazionale tanto che nei giorni scorsi le indagini della procura di milano e della polizia postale hanno scoperchiato un sistema di contratti manipolati attraverso il telemarketing la sottoscrizione segue uno schema ben preciso i dati dell'ignero cliente sono già in possesso degli operatori dei call center basta solo una firma apposta sul contratto e palesemente contraffatta il risultato è una serie di costi e disagi per l'utente finale che intende ritornare indietro e se ovviamente i truffatori sono solo una piccola parte il consiglio è sempre quello di prestare molta attenzione alle telefonate ricevute fino a non pronunciare dei sì che potrebbero diventare fatali a varese proseguono le polemiche sulla sicurezza dopo il blitz di ieri sera dei militanti di casa pound in consiglio comunale vediamo il servizio con le immagini di matteo canevari blitz di casa pound in consiglio comunale avarese mentre ieri sera nel salone stense si dibatteva sull'ex aermacchi il sindaco spiegava la posizione dell'amministrazione sull'impasse in cui si trova il progetto un gruppo di contestatori ha srotolato uno striscione con scritto galimberti sindaco dell'insicurezza la loro protesta è stata mossa dagli ultimi episodi di cronaca come la rissa di piazza repubblica che hanno acceso i riflettori sul tema della sicurezza in città allontanati dall'aula hanno distribuito una volantino per spiegare le loro ragioni il comunicato firmato congiuntamente da casa pound a direzione rivoluzione il veltro varese sottolinea le criticità legate alla sicurezza in città la reazione è stata ferma maggioranza è giunta si legge in un comunicato condannano l'atto provocatorio messo in atto da un gruppo di casa pound che ha fatto induzione mentre si stava svolgendo la regolare seduta del consiglio comunale questi atti da parte di forze che si richiamano al fascismo e che tentano di bloccare i normali lavori democratici di un consiglio comunale il comunicato sono segnali gravi che non devono lasciarci indifferenti e sempre a varese questa mattina grande festa per il 250 anni di fondazione della guardia di finanza nell'occasione è stato anche inaugurato il nuovo parchetto che si trova in piazza repubblica vediamo il servizio con l'intervista al generale crescenzo saraffa generale saraffa a capo della guardia di finanza della provincia di varese un evento fondamentale oggi per la città anche per il luogo che avete scelto per l'iniziativa come noi è un luogo di radici di radici storiche è un luogo di sacrificio luogo di dedizione è un luogo sacro alla patria c'è il monumento ai caduti di recente tre giovani vittime tre giovani fiasme già le vittime del dovere è il luogo della repubblica italiana idonea fornisce per celebrare 250 anni di storia da protagonisti della guardia di finanza e andiamo adesso a busto arsizio dove non si placano le polemiche sulla piscina manara francesco inguscio l'arrivo del nuovo gestore acquamore ha permesso di far partire regolarmente la stagione estiva della piscina manara ma gli strascichi legati all'ultima complicata fase della gestione forus non si sono ancora esauriti è spuntata infatti una grana legata all'attività dei nuotatori circa 60 atleti fra agonisti esordienti e master tesserati per taurus nuoto la società di forus italia con la chiusura per lavori della parte interna dell'impianto che non riaprirà prima di settembre questi atleti sono stati costretti a emigrare in altre strutture come ierago e legnano proprio nella parte decisiva della stagione agonistica un trasloco non indolore che ha comportato una diminuzione delle ore di allenamento oltre ai disagi i costi per gli spostamenti per questo motivo i genitori dei ragazzi rappresentati dall'avvocato stefania gennaro hanno presentato una lettera di diffida indirizzata al comune a forus e ad acquamore in cui si chiede di concedere ai nuotatori l'utilizzo della vasca interna della manara almeno fino al 10 agosto e di rimborsare alle famiglie i costi sostenuti per l'utilizzo di altri spazi acqua e torniamo a varese dove è stato presentato il progetto per la realizzazione di un famiglio ci racconta tutto sarà giannini le immagini sono di agenzia blitz famiglio di varese via alle candidature inizia la fase partecipativa per proporre i nomi di cittadini e cittadine che hanno lasciato un segno nella storia della città e che sono meritori dell'onorificenza il nuovo famiglio sorgerà nel cimitero monumentale di giubiano i singoli o le associazioni con sede legale sul territorio comunale potranno segnalare al comune un nominativo da inserire insieme alle motivazioni l'apposita commissione ha di recente deliberato che i nomi proposti dovranno essere riferiti a cittadini vissuti nel periodo compreso tra il 1861 l'anno dell'unità d'italia fino ai giorni nostri tre le categorie previste cittadini benemeriti cioè che abbiano recato alla città lustro o beneficio cittadini illustri che si siano distinti per opere letterarie scientifiche artistiche operati in signi e infine cittadini che si siano distinti nella storia della patria e sempre a varese nella chiesa di san massimiliano colbe prosegue la raccolta fondi per restaurare un prezioso crocifisso del cinquecento barbara zanetti ha intervistato per noi don marco paleari da qualche settimana ormai è stata lanciata la raccolta fondi per il restauro del crocifisso ligneo che nel giovedì di pasqua è caduto a terra e si è profondamente danneggiato a che punto siamo con l'intervento e con la raccolta fondi grazie siamo contenti che la sovrintendenza abbia già dato parere favorevole il nostro restauratore massimo peron ha presentato un progetto di restauro e quindi abbiamo incontrato il parere favorevole della sovrintendenza quindi il restauratore ha iniziato il grosso del lavoro qui in sede quindi ha aggiuntato in piedi la parte delle caviglie ma la parte di fino quindi con la pasta di legno e le strutture adeguate il colore l'ha portato nel suo laboratorio e quindi la incontrerà i tecnici professionisti della sovrintendenza per valutare il miglior lavoro possibile e andiamo adesso a olgiate olona dove è stata presentata la nuova aggiunta comunale vediamo il servizio di stefano di maria è stato un insediamento particolare quello del riconfermato sindaco giovanni montano di olgiate olona ieri sera villa gonzaga quasi facendo passare in secondo piano il suo giuramento sulla costituzione ha voluto accogliere e congratularsi con un olgiatese esemplare è mario rossi insignito dal capo dello stato mattarella del titolo di cavaliere dell'ordine al merito della repubblica italiana salutato dai cittadini con un caloroso applauso dopo la presentazione delle linee programmatiche della sua terza amministrazione montano ha indicato gli assessori che compongono la sua nuova squadra di governo vice sindaco è stato nominato leonardo richiusa che seguirà i servizi sociali sofia conte è stata confermata cultura e servizi educativi ben tre le new entry in primis fabio lunghin che ha ottenuto la delega al commercio all'innovazione e allo sviluppo integrato assessori esterni ugo bassi bilancio ai tributi e concetta saigia territorio tanti temi sulla prealpina di domani disponibile in edicola e sui supporti digitali sentiamo qualche anticipazione dal collega luigi crespi domani in edicola con la prealpina c'è il settimanale oltre lo sapevate che tra qualche giorno un asteroide ci passerà molto vicino ma la terra si salverà e ve lo spieghiamo noi come questo è uno degli argomenti contenuti nel numero di questa settimana rimanendo nel campo della cultura e degli spettacoli pubblichiamo sul giornale di domani l'intervista ai sub sonica in vista del concerto dal rugby sound di legnano che sta per cominciare tanta cronaca infine con un caso di revenge porno e l'arresto di un ladro seriale oltre a tutte le informazioni sulla notte bianca di domani a busto arsizio grazie luigi con questo anche per oggi è tutto l'appuntamento con l'informazione di prealpina punto it torna come sempre domani alle 19 una buona serata